Andiamo e chiudiamo con il segno dei pesci, bellissima luna, parla di viaggi, parla di spostamenti, parla di vacanze, parla di desiderio anche di ricominciare da cavo per tutti coloro i quali hanno avuto delle difficoltà, anche ultimamente che vogliono per un attimo scrollarsi di dosso i cattivi pensieri, i problemi per regalarsi momenti anche di allegria e di gioia da vivere e da trascorrere con il partner. E' un aspetto un po' difficile con Venere, quindi i rapporti stretti sono un pochettino in crisi in questa giornata, molto meglio le nuove conoscenze o gli amori appena sbocciati che possono contare su una grande passionalità e una grande attrazione fisica.